Cosa ho visto ragazzi? Cosa ho visto? Però c'è da fare una cosa perché così qui nel rimollo tra l'altro in acqua bassa non capisco neanche perché ci siano c'è un assembramento di papagnoni però con la gighead anche leggera non ho praticamente speranze quindi se voglio provare ad avere qualche speranza devo provare a pescare con amo semplice senza piombo spiombato e non è neanche detto che riesca adesso leggo un amo e vediamo cosa succede adesso devo anche capire come arrivare perché se poi lo attacco devo anche trovare in modo di tirarlo fuori no? mi sembra il minimo allora vediamo ancora se ci sono se ci sono ancora che potrei anche averli disturbati ci sono e ho già capito che non posso avvicinarmi di più così dai ok il filo è libero e non posso avvicinarmi più di così c'è ora troviamo il sistema per tirarlo fuori guardate quanti c'è n'erano e ci sono un po di rami l'acqua è tranquilla erano qui tranquilli tranquilli tranquillo tanto è libero adesso ok non li avrei mai fregati con quel piombo sul filo mai no 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 dai dai che ti tolgo l'arma ti lascio andare ok wow eh c'è da faticare un po' per prendere i pesci però vedete che poi le soddisfazioni arrivano vai grazie mille ciao guardate che bella buca però non ci sono ripari per i pesci e non c'è niente non si vede una pinna nulla eppure qua ci saranno due metri e mezzo d'acqua ci sono tutti nel punto profondo è vero che corta è perché saranno punto più profondo sarà un metro e mezzo due metri però comunque di acqua ce n'è ma non c'è sotto un un pesce niente né piccolo né grande né con i baffi né senza baffi non c'è nulla i pesci se ci sono preferivano stare lì che non c'è acqua però ci sono tutti c'è tutta quella ramaglia e prendete anche gli alberi fanno da protezione e qui dove è pulito questa è una delle dimostrazioni che i pesci non temono tanto il siluro perché il siluro anzi piuttosto è più facile che sia lì sotto che non qua però lì ci stanno volentieri qui no perché qui gli uccelli vengono giù tranquillamente e lì gli uccelli fanno fatica o comunque i pesci hanno protezione perché hanno i prismi hanno i rami quindi questo dovrebbe farvi ragionare un po' quando quando si parla di problemi per i pesci delle nostre acque ciao ragazzi